Il governo romeno resta in carica malgrado l'ondata di proteste di piazza contro la corruzione. L'esecutivo di centro-sinistra è uscito indenne dal voto di sfiducia che si è svolto in Parlamento. 161 deputati hanno votato sì, 232 no. Nella mozione, firmata da 123 deputati, si diceva che i romeni non vogliono che politici corrotti vengano graziati e sottratti alla giustizia. Il voto fra le proteste dei deputati dell'opposizione, che brandivano i loro telefonini come la gente in strada. Prima della votazione in aula, il premier socialdemocratico Sorin Grindeanu aveva detto che il suo governo ha degli obblighi nei confronti del popolo che gli ha dato la fiducia in occasione delle elezioni. Elezioni avvenute appena l'11 dicembre scorso. Vi chiedo di dare la fiducia a questo governo e respingere la mozione, ha detto il premier. Un risultato importante però la piazza e l'opposizione lo hanno ottenuto. Il governo ha ritirato il contestato decreto sulla depenalizzazione dell'abuso di ufficio e di altri reati di corruzione, proponendo invece che un disegno di legge sullo stesso argomento venga sottoposto al dibattito in Parlamento.